Le circostanze sono importanti, non ti lasciano liberi di decidere. Anna, io già mi sento in gabbia per conto mio. Lei sospirò, rivolto le spalle e vi prese a camminare. Insomma, la inseguì. Perché non vuoi capire che non ho nemmeno un pezzo di carta? Anch'io vorrei una vita normale. Cosa credi? Ma come faccio a lasciare tutto adesso? Dammi un po' di tempo. A parte il fatto che il tuo è un lavoro sempre a rischio. L'hai detto tu. Se la comunità un giorno dovesse chiudere, dove andremmo a parare? Me lo dici? Lei si motoriscato. Avevano ancora un po' di affanno. Annui parlata a fretta. Mi appoggio la verità sulla cintura. Mi salì lentamente.